It's Rage Time Non lo so Ecco Emil A causa di un personaggio Nome Emiliano Noi siamo riusciti a fare Per ogni sabato Questi episodi Adesso le faremo Un pochino di meno Però dopo riuscirò A convincerlo Riuscirò a convincerlo Siamo su Trout Walls Che non ho capito Che cazzo di gioco è Livello 1 Non ho capito Che cazzo devo fare VSD per ruotare Cioè aspetta Non ho capito Che cazzo devo fare Allora Tu hai un limite Allora Non ho capito Allora per ruotare Quando hai piazzato La tua figura Nella giusta posizione Mi ho speso Per iniziare a muovere Ok Allora Ok Ok Ah allora è semplice È semplice Ho capito più o meno Livello 2 Cioè praticamente Noi dobbiamo Fare in modo Che la figura Ecco Ecco guarda Vedi Risulti Deve combaciare Come no Come no Ok Ok Ha funzionato Siamo al 2 Ho solo due vite Però Non per dire Oh merda Oddio 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 Penso vada bene Ok Sì Siamo al 4 Però la musica è bellina La musica ha uno stile Semplice Però è bellina Oh Vai Oh madonna Em Questo dove era scritto No Andava bene così Ok Siamo al Siamo al livello 5 Per il momento Non è troppo difficile Però mi domando dopo Oh Guardalo Guardalo Che bomber Yeee Nessuno Aspetta Mio That was easy Questo è stato semplice Perché di primo livello Ho detto Tanto sono una cagata Dopo diventano complessi Ehm 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 Dai No Che cazzo sta venendo fuori Ehm Sì Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta eh Ok È passato No Ehm Ehm Sì Vai Attraversa i blocconi Esatto Ottimo lavoro Sì Rivello 7 Che cazzo è sta roba Dai Ce la puoi fare Dai Sì Eh No 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 Cazzo Cazzo No 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 Dai Dai No 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 Cazzo Ok Non andava bene Non gli piaceva Aspetta Così va bene Ho fatto tutte queste palle per poi scoprire che era così Oddio ho una sola vita Ho una sola vita Io voglio arrivare alla fine di sto gioco Ok Ok Ehm E così? No che cazzo ho creato? Oh No No Continua Ah si può continuare Eh si però con una sola vita Si ma va a fa un bagno guarda Cos'è? Che cazzo è? Allora no 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 non ho capito cosa sta diventando No 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 Pezzo di merda No perché ho cliccato start? Vai Mi vale l'ultimo Che cazzo sarà meglio se taglia sto pezzo Come se non bastasse già i guai Adesso cambiano anche Un pezzo di merda Quindi Emil Se io per caso faccio delle cose sbagliate Come questa Che cazzo? Che cazzo ho fatto A me invece piace Mi sembra tipo quei giochi dove Quel programma tv dove dovevi fare perfetto Che dovevi passare Cazzo sto facendo Oh Bene Uno è ok No Devi metterti nella posizione giusta Mortacci tua Oh No Un culo a lui Dai oh 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 Dai no Sì 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 Dai Io guardo male Vedo male Coglionarsi io Non è il gioco Eeeh Oh A parte che potrei anche tranquillamente guardare lì Così vedo subito Sei in posizione giusta Ok Allora sono a livello 6 Ok Viene È giusto L'avevo detto Perché io sono Un culo di minecraft In modalità Stramba Diciamo Livello 7 Questo dove c'eravamo impallati prima Ok Ok è giusto adesso L'avevo detto No 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 Cos'è Cosa Eccolo Ah dovevi sentire Ma vaffanculo Io credo che c'erano un blocco in mezzo Ehm Cosa cazzo è Ok no 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 Così non va bene Sì No 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 Madonna Oh è giusto È giusto è giusto è giusto Dimmi che è giusto Sì che è giusto vai No 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 Sì era giusto Era giusto È giusto Sì Vai E dai E dai enamo Ok No No Non va bene Non va bene Non Va Fottutamente Bene Porco Giuda Livello 8 Perché livello 8 Oh Cazzo succede Mi ha spedito a livello 8 Ma perché mi ha spedito a livello 8 Ok questo è giusto Questo è giusto È uno È uno se ne deve andare a A A fan bagnaus Ok È giusto Anche questo Devo sentire i miei rumorini Sono bellini Mi piacciono a morire Scusa l'importante è che deve passare Stato deve passare Passa Perché non ti va bene Dovevo passare Basta Devo fare la figura perfetta Gioco di merda Vuole pure che faccia la figura perfetta Sto mister pergeniaccio Perfettino Testa di minchia No 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 Sì E vai No 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 Cosa cazzo sto facendo No 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 Avevo detto che non andava bene Andai basta No Io Devo Vincere A sto merda Di gioco Non lo accetto Di poter perdere Per via di un Di un Cosa digitale Oh madonna Dai È giusto Si Giusto È venuto giusto Ok No 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 Non è venuto giusto Maledizione Maledizione Dai Siii Ma è giusto Ti prego dimmi di si dimmi di si dimmi di si dimmi di si Si è tutto giusto Livello 9 Livello 9 Siamo avanzati Di merda però alla fine ce l'abbiamo fatta No 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 È venuto No No che non è venuto mi sono accorto dopo Cazzo Non è venuto neanche il primo Almeno dai almeno io voglio arrivare almeno a livello 10 Se non arrivo a livello 10 non sono soddisfatto Io no No non è giusto Non è giusto Mi so No 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 Va bene niente Cristo No Non ci voglio credere Lo stesso errore di prima Livello di merda Oh Si ma non vale se poi dopo me lo cambi Ma sei uno stronzo Ma sei uno stronzo Ma sei uno stronzo Quando lo mi Si 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 perché 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 mi cambia ogni volta la figura cristo simpatico deficiente coglione pezzo di s o dai dimmi madonna non so che da cazzo sto facendo però ho perso madonna santissima oh sta facendo bestemmiare questo gioco no mosconi al diavolo ok oh dimmi che è quello giusto gli è andato bene oh 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 dai dai ma vieni ma vieni che ce la posso fare no così non va bene no no non l'ha raggiare come dico no no non puoi farmi ste cose no 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 oh è giusto è giusto è giusto è giusto sì che è giusto vai livello completato almeno facciamo facciamo emile il 10 e poi dopo basta perché già io mi sto già io mi sto incazzando te è diverso te non piace nessuno dei giochi che ti propongo non me te guarda allora vedi ti piacciono questi giochi no 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 Ok Come in Abbiamo fatto il 10 In due secondi Ci voglio credere Io non so quasi quasi Vorrei fare l'11 però mi sa è meglio di no Oddio dipende Perché se mi Vengono bene le figure Io quasi quasi lo farei anche Cioè non ho capito cosa sto facendo Ah no aspetta mi è venuta Mi è venuta Dai Ma vieni bomber Adesso mi stanno venendo Non so perché prima non mi veniva niente Adesso tutte a cura o mi stanno venendo tutte Non ci voglio credere Livello 12 che non pensavo neanche di arrivarci io E sono arrivato al livello 12 Cioè guarda A caso A caso è venuta Ok Non ho capito Se questa non ho capito Che devo fare Oddio cosa sto creando It's a monster Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Culo assurdo Dico solo questo Culo assurdo Ok io adesso mi fermo al primo livello Che è al primo livello in cui muoio eh Aspetta No non è giusto Adesso è giusto Penso Si è giusto Minchio Vai Eeeh Ma carena E' venuto E te lo pigli No di poco Di poco No Eeeh Ma carena Ma carena vai Quattordi Oh io non mi aspettavo di arrivare al quattordici Serio eh Peccato a me che qui non esista O vai O vai O via Su via E mordacci Ok Poi di che non per dire Ma sono facendo tutte le figure a caso Però mi stanno L'ho già detto Mi faccio le figure a caso E mi vengono Però c'ho 25 anni di tempo No 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 Cos'è Cos'è sta roba E vai Eeeh No mi piaceva sentire il rumore Tata 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 Eh Cosa hai detto Scusa Io avevo capito Muori Sì Qui tu osavi dire certe cose A me Vai Ti amo Minghi oh Sì ma questo è culo eh Questo È il culo più Più grande Che avrai visto E lo dico in senso erone E lo dico in senso figurato Perché se no Con il livello arriviamo Che adesso è un attimo di fortuna Dai è un attimo di fortuna Io dico che ci possiamo fare Eh No Perché Non fumare Mi sei ancora troppo giovane E allora Lascia stare il mio coltellino Accendino Granata Non posso Sono in nifugo Non vale prendere le pozioni di resistenza al fuoco Non ti do il permesso io eh Non esiste Non esiste la pozione Mi dispiace Ok E No Sì Bomber Time Non pensate bomber bomba eh Bombatomi No Non osare cantare Quella roba di Merda Emile 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 Sfondo sessuale Sdividoli Dovrò censurare Tutti Emile Ah madonna Ma finiscono Ce l'avranno Pure una fine Sti livelli Mi chiede Io preferisco Io preferisco le goccele Le goccele fanno solo bene Sì Secondo te perché La mia salita mentale è così buona No No Mi dispiace Mi dispiace Livello dicendo Livello dicendo Ok 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 Qui adesso le cose Eh E perché Vai Vai Oh dio No Non laggare Non laggeggiare Ma che cazzo sta facendo Ma che cazzo sta facendo Vai Bomber Yeah Subito Neanche due secondi Metti Algo l'informazione Del virus Di Merda Man Il database Del virus Di Merda Man E' stato aggiornato Bene Ora muori Pezzo di Merda Madonna Oh Sì Dai 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 È giusto Qui Qui E' solo una cosa Andrew vuol dire che ci ha messo lo zampino Se è riuscito a fare una cosa simile No Non di questo Si Lo so No Sì Dimmi che è giusto Di 90 millesimi di secondo Eh Questo me lo tenete da conto Magari devo completarlo Forse il livello 20 E poi forse finisce Vale che se finisci a livello 20 Ti pago Ti compro un gelato Così sei contento Sapevo che l'avresti detto Tanto tu Tu tutte le volte Devi dire C'ho fame Perché se no Non è contento No Io non dico Salve a tutti Dico Salve a tutti Emile 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 Fai dal dottore Ok Non so io che dire Io No ma non finisce No io direi di fare basta Io direi di fare basta Mi direi di stoppare qui Allora se vi è piaciuto Lasciate un tanti Spolliciate Verso l'alto Che devo essere sincero È stato un po' Un gioco Un po' Rage Un po' Scadente Cosa Luna gay Ok ce la posso fare Comunque Comunque mi ero stoppato Se non mi sbaglio Ecco Allora se vi è piaciuto Lasciate tanti pollicioni Verso l'alto Anche nella pagina di facebook Come ne vi è trovato In altre descrizioni Che cazzo Finiscono ste robe Beh Se non siete iscritti Noi ci vediamo Al prossimo video Level complete E level 22 Vabbè Bella